Allora, Fabri, perché questo no agli immigrati? Diciamo no a questa operazione scellerata che sta portando avanti il governo con Mare Nostro, ma a prescindere, a maggior ragione, nel nostro territorio, un territorio gravemente ferito dalle scosse del 20 e 29 maggio. Abbiamo ancora, come dicevi tu prima, più di 750 persone fuori casa, mille pratiche di ricostruzione che giaciano all'interno dei nostri uffici, più di 200 milioni di euro di danni sulla parte pubblica da ripristinare e credo che sia assurdo che il governo e un prefetto ci convochi in questa situazione di emergenza ancora, tra l'altro a gran fatica il governo Renzi ha riconosciuto proprio in questi giorni lo stato d'emergenza fino al 2016 che ci venga chiesto di accogliere dei clandestini all'interno delle nostre strutture. Il comune dice no e lotterà in ogni modo se anche qualche privato, qualche albergo vorrà ricevere qualche clandestino sui bandi che stanno gestendo a livello provinciale, la nostra contrarietà si manifesterà in ogni modo per dar contro a un progetto che è quello di questo governo di distruggere il nostro paese e di mettere in condizione di grosse difficoltà anche territori come quelli del cratere emiliano che da anni aspettano risposte dal punto di vista della ricostruzione. Ecco, Alan Fabri è il volto della Lega Nord in Emilia-Romagna, ma occorre sottolineare che anche altri comuni, per esempio Guida Forza Italia o anche il Partito Democratico in provincia di Ferrara hanno detto no agli immigrati. Qual è intanto la situazione della ricostruzione del terremoto e poi ci sono margini per questa accoglienza? Rispondo subito all'ultima domanda. No, da noi non ci sono margini per accogliere i clandestini. La ricostruzione è lenta, siamo soltanto al 20% degli edifici che sono ritornati agibili. Ci fa piacere però che a seguito dell'incontro e della lotta che stiamo portando avanti noi come Lega nei comuni che amministriamo un po' in tutta l'Emilia-Romagna ci sono giunti anche altri sindaci, Sant'Agostino che è a Guida comunque di centrodestra e anche Mirabello che c'è una sindaca lungimirante che da questo punto di vista ci ha visto lontano dicendo che siamo anche noi terremotati e non possiamo accogliere i clandestini. Il sindaco di Mirabello del Partito Democratico ci fa piacere che si sia unito a livello di territorio su questa lotta che stiamo portando avanti. Infine prima di ridare la linea allo studio le chiedo se qualche privato volesse comunque autonomamente concorrere all'accoglienza di questi immigrati il comune come si comporterebbe? Non potrebbe da questo punto di vista fare nulla? Beh in qualche maniera ci opponiamo, c'è la contrarietà ovviamente del sindaco chiederemo verifiche su queste strutture dal punto di vista sanitario dell'USL e tutto quello che è di nostra competenza per contrastare chi a nostro avviso in maniera scelerata sfrutta anche il problema dei clandestini che siano le cooperative, che siano le strutture alberghiere che recano appunto anche un danno d'immagine ai nostri territori. Quale il messaggio per Salvini? Com'è? C'è un messaggio per Salvini? Chiedete aiuto da questo punto di vista? No, no, Matteo è ben informato di quello che stiamo facendo, abbiamo il suo supporto e continueremo questa lotta insieme a tutto il nostro movimento politico e grazie anche a Matteo Salvini che il 10 settembre sarà qui a Ferrara a manifestare con noi davanti al Lab di Ponte Lago Scuro dove sono ospitate i tantissimi clandestini.